Ciao a tutti bentornati qui sulla North Pacific Marsh. Allora diciamo che è cambiato un po' la programmazione che avevo fatto nella puntata precedente ma faremo anche quello quello che nel frattempo ho trovato anche una bella un paio di belle missioni da fare fammi cambiare questa cosa che non mi ricordo andando a sinistra andando a destra spargimento anche ok perché andremo c'è una bella missione da 100.000 di andare a ad avvolgere un po' di balle e quello va fatto lo facciamo in diciamo che è in di default così tanto abbiamo già tutta l'attrezzatura ce l'abbiamo 45 i percorsi ci sono quello va fatto facile 45 dove sei 45 ok allora tu vai lì e qui carichiamo il percorso del 45 45 b che carica attiva perfetto ce lo metto il primo punto ma di sicuro non c'è bisogno mi ricordo la velocità se l'avevo cambiato sì ok ok e questa è una già questa è a posto questa lavora per i fatti suoi fa tutto lui lì si è bloccato questo un'altra volta e mi rompe un po' che ti blocchi perché io si blocca perché dovevo fargli fare due giri intorno non uno vabbè ormai andato anzi sai cosa vi dico facciamo una cosa che ha indietro l'arbero davanti no che ero scusa ma se io ricalcolo il percorso da vicino intanto tiro via faccio di nuovo sì però il punto di partenza mica lì quindi partenza voglio un'altra parte mettiamo qua eppure due volte strano numero parimetrale due perché me ne ha presi uno allora facciamo una cosa manuale lato no facciamo un lato più lungo vediamo se mi riprendi i due impossibile generale percorso del giusto ah vabbè ok non gli piace così manuale ancora non fiede da saltare nessuno circolare no sai che vi dico che questo qua poi me lo faccio io adesso mettiamo in funzione un po' tutti lo faccio da solo perché si attrezzo troppo allora ci sono campi che va bene ci sono dei campi che non va bene questo perché qui che ci fai tu qui basso il piccino ma no e deve essere l'officina devi scaricare allora base 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 produzione fertilizzante scarica vai ok carica latte si perfetto animali pecore no allevamento mucca e carica liquame fammi andare a vedere qua circolo consegna no ok questo è un altro questo stanno lavorando tutti e due lavorano bene bravi vediamo un po' il trattore come è messo che percentualità è arrivato percentualità che percentuale è arrivato va bene questo questo va bene perché ha lavorato questo te lo tiro via e tu te ne vai in base va tentando all'officina poi vediamo ok e qui c'è la mia missione una delle due che ho accettato una l'ho messa in funzione l'altra mettiamo in funzione adesso ragazzi a proposito chi fosse interessato a vedere ad avere questa disposizione dei mezzi qui vicino al negozio sotto in descrizione trovate il link per andare a scaricare questo file lettino qui poi bisogna solo inserirlo dentro al file xml e dovrebbe funzionare almeno funziona gli altri che l'hanno scaricato non mi hanno detto non mi hanno fatto sapere niente vuol dire che a quanto pare funziona allora meditribbia ok campo 45 va bene a dove li voleva che non mi ricordo ho il testo voglio di balle metitura questo che tra i davanti un fino là sopra lontano vendite che tra i davanti ok tu vai va bene non hai nessuna trebbia ma adesso arrivano di preoccupare poi se la facciamo con questa no era porto io dai perché questa mi sembra un po troppo ora tengo sott'occhio questa questa si batte dappertutto ma quello doveva scusami eh 45 54 65 per quello quello se ne va tutto da un'altra parte 65 chiedo scusa ma infatti dico ma perché c'è volta lì a sinistra doveva andare a destra dov'è qua ok allora questo la porto sul 65 e anche questa così questa lavora e mi sa però che come aiutante gliene do un altro perché dal 65 arrivare fino lì a scaricare è un po troppo lontano prendo uno dei miei gli do anche quello aiutante così che sono due poi il big è mai iniziato a lavorare big 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 dove sei? volks modding penso proprio di sì perché va ai 20 all'ora ha consegnato a courseplay perfetto l'unico fermo è lo scania quello deve stare fermo è il fendet che a momento verrà chiamato e adesso la prossima chiamata dovremmo vedere di preciso quanto ha caricato e farlo combaciare con il rimorchio del camion con la percentuale io direi che siamo al 46 per cento a 36.000 se ne diamo altri oh adesso è già 13 13 e mezzo quasi 14 se la fa? sì non ce la fa mi sembrava troppo bello per essere vero eh ma quando in questo giamellare qui proprio guarda non va affatto bene allora abbiamo detto 36 più mettiamo 14 se ne va a 50 beh ma adesso vediamo è inutile a fare dei conti inutili perché quello è ancora 77% la chiamerà intorno al 90 allora devo comprare il campo 37 voglio comprare il campo 37 comprerò anche vediamo se i soldi bastano perché i soldi devono bastare e anche perché dei prestiti non ne possiamo fare più perché già siamo a 4 milioni qualcosa non ce li possiamo permettere altri prestiti quindi dovremmo voglio comprare anche il suolo del biogas quello che ho là sopra al nord dove voglio piazzarsi anche un bel silos di quelli per l'impianto di biogas che non in questo giro o magari nel prossimo andremo a mettere mais e facciamo una bella una bella raccolta di mais facciamo tutto insilato anche perché dovrebbe venire fuori spero perché è la prima funzione di courseplay che almeno compatta i silos è venuta fuori e speriamo che presto venga fuori anche quella che con il con la palla gommata riusciamo anche a scaricare ovvero meglio svuotare il silos e caricarlo dentro il biogas la prima funzione è arrivata è arrivata un po' lunga io essere più onesto speravo che venisse fuori prima ma non è arrivata è finalmente arrivata adesso ma tanto ce la goderemo perché anche per quest'anno una nuova versione di farming simulator non verrà fuori perché se hanno tirato fuori il dlc di sicuro non tirano fuori un altro un'altra versione del gioco allora un po' di tempo ce l'abbiamo sapete che vi dico che io lo faccio iniziare da qua tanto che me frega allora questa trebbia mi piace mi piace tantissimo e sono anche sul lato safe game il problema di questa trebbia è che i 30 all'ora del trasferimento sono pochissimi quindi dovrei caricarla con un camion ma non ci sono il camion vabbè ok vai spelt bravo non mi da la paglia che non mi interessa allora allora e allora aspetta gestione dell'isola cerchio no semplice così evitiamo subito tracce perimetrale facciamo tre inizio campo morbido va bene automatico ok tutto di quasi di default niente di tranne due o tre cose va bene perfetto ok dove sei qui aspetta che vado un po' più avanti abbiamo detto che questo è il 65 no faccio io ragazzi con i numeri ok così che il trattore la riconosce no che cacchio ho fatto io ho sbagliato qua via qui vai ok 65 andiamo a prendere un altro aiutante che glielo mandiamo anche qui mi sape acqua devo metterci di nuovo le manine perché anche questo non carica strana allora questo lavora alla grande abbiamo beccato proprio nel momento giusto allora vediamo quando arriva abbandoniamo ancora le trebbi 7000 se arrivassimo un 70% sarebbe bello ah si ce la possiamo fare 70 dai ce la fai ah non ce la fai dobbiamo impostarlo dobbiamo impostare al 60% questo lo impostiamo al 60% perché vedete al 70% lui non va a scaricare sarebbe bello un numero in mezzo no un 65 però non c'è vedete come si può scrivere a quelli di courseplay di autodrive di fare una modifica del genere l'ho fatto no si ok dai che sei a 69 parti non vuoi ah beh facciamo così ok prossimo giro lo farà in automatico ma questa volta gli dobbiamo dire gli ho detto io non so perché non so per come ha fatto questa cosa qua potrei provare con l'altro trattore vedete perché questo abbiamo detto che ne ha quanti dov'è qui grandi questo ne ha 511 326 e 458 e questo tu quanti chilometri quanti chilometri quanti cavalli uh 400 400 abbiamo detto che questo ne ha 4,58 dovrebbe bastare no 64 ah perché questo l'ho preso usato mi dà 64 ma questi li ho presi tutti usati mi dà 64.000 se lo vendo adesso e con 64.000 non prendo mica una cosa del genere a meno che non lo trovo non lo trovo in sconto ma qua di sconti ce ne sono abbastanza pochi chi è qua che è bloccato un ostacolo axel oh la metri tribbia perché no perché si è messo lì allora facciamo facciamola ripartire e però chiamare qui chiamiamo non a 60 ma anche a 70 dai altrimenti lo chiamo troppo presto manca 80 no forse 80 sono troppi 80 sono troppi perché mettiamo il caso che fosse tutta in un'altra parte del campo prima che arriva là si riempie mettiamo la 70% e siamo a posto chiamata secondo carro direi di si chiamo il secondo carro quando quando l'ho quello quando l'ho quello attuale errore ragazzi fate fatto un errore quando quello attuale raggiunge il livello di riempimento di pre-allarme allora 65 gli dobbiamo portare l'altro aiutante è vero che adesso non c'è bisogno quello è parcheggiato proprio perfetto in mezzo alla strada ok vediamo ma quello è arrivato a scaricare dove è andato ah ah sì vabbè ho fatto il giro lungo ok questo a momento dovrebbe partire ah gli devo dire anche a questo allora 14 questo ha circa allora 14 facciamo 14 14 dove era questo? 14 14 28 ah gli dobbiamo fare tre viaggi così che lui è vero che c'è il secondo quello non è un problema no lasciamo così non è un problema dai qua o ragazzi qua funziona la grande eh sarà una bella modifica vedete loro lavorano tra di loro non c'è quasi bisogno mai di intervenire ah cosa vuoi? ah no deve essere scaricato sì solo tu hai ragione anche lei allora questo sta lavorando quando siamo a metà iniziamo un po' ad essiccare con il bagaglius dov'è? qui adesso ci do un'occhiata dopo che siamo dopo quando sono off screen così vediamo un po' di preciso cosa vuole accenditi eh accendo sì ok allora questa è una bella cosa però per questo campo dà un po' fastidio perché non essendo forse troppo piccolo per la capacità che abbiamo qua di di lavoro da un non riesce a calcolare bene il percorso però con la la capacità di lavoro che abbiamo con questo anche se lo facciamo noi in due secondi abbiamo fatto guardate un po' qua questo se mi capitasse usato serve da prendere bene tutto lì allora qua ecco così si vede meglio perché poco fa non lo vedevo direi che facciamo così così l'abbiamo già fatto c'è un avanti indietro e abbiamo finito di fertilizzare con questo è una figata sì non abbiamo preso tutto il 100 per cento in questo caso sarebbe una figata se spruzzasse solo centralmente il piccolino no ma quando pare non lo fa vediamo se qui possiamo regolare aspetta per regolare come si faceva aspetta spegniti disattiva dosaggio riempi questo eppure la funzione c'era no ops no accendi attiva sensore per le colture alt b perché non si accende in automatico penso proprio di sì cambia parzializzazione ctrl z ah vedete qui vediamo se funziona oh oh sì però così troppo poco eh ctrl z così è tutto così è un po' meno ma no allora dammelo tutto dai ok ho sbagliato pulsante uscire da qui e invece sono andato di là la cosa che mi piace è che si spegne dove non c'è adesso io tipo qua no qua come fa ah no non c'è collezione vero ah ormai questa collezione è un casino in certi posti non c'è in certi posti c'è la cosa giusta è che non ci fosse dappertutto che ci fosse dappertutto però alcuni modder non gli piace non la mettono ma ecco dove il camion che è venuto a scaricare il secondo viaggio alla sezione dei treni non c'è ok andiamo sul 10 e siamo quasi qua c'è un passaggio e siamo quasi a buon punto con i campi d'erba allora di sicuro adesso mi darà dei problemi anche qua ma ormai ci provo poi vediamo un po 36 inizio campo morbidi senso orario va bene circolare no facciamolo su e giù direzioni inizio riga mettiamolo in automatico poi vediamo un po' qua isola non c'è nessuno vediamo cosa succede ebbè ha iniziato lì no no ma inizia qui boh allora la speranza che non si va a scontrare con il camion che c'è di là parte tu fai tu poi c'è sto problema qua ma ci guardo dopo mi interessava vedete questo sta aspettando al 15 il camion è ancora lontano però secondo me arriva prima la chiamata della miti trebbia che il camion la miti trebbia quant'è eh già quasi al 90 per cento secondo me a un momento lo chiama ha bisogno di essere scaricato vedete che l'ha chiamato un momento tira fuori il tubo e lo chiama no io aspetta cercavo di qua dov'è l'altra no questo è il 13 ancora ah bisogna essere scaricato anche lui ma tanto questo è ancora il primo io aspetto il secondo e dopo andiamo a vedere le percentuali e con le percentuali poi andiamo a tirarle giù o su il momento in cui deve andare a scaricare nel momento in cui lui parte per andare a scaricare posso attivare anche l'altro aiutante ma anche se secondo me non so se ce la fa perché è lontano è tutta dall'altra parte della della mappa allora facciamo una cosa andiamo a comprare il nostro campo che quello ha comprato terre il 17 aspetta prima controllo una cosa se pronto per la raccolta compra o abbiamo un altro campo è vero che questo è triticale però ci porta tanta e ha guardato un po' come c'è la 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 lalato ogni tanto si vede chiaro un altro ogni tanto in base a come si muove sfoca il mio il mio campo non so perché comunque stavo dicendo che qui abbiamo tiriamo fuori il triticale che lo vendiamo nel momento in cui avremo un buon prezzo ma terrieremo fuori anche tanta paglia che metteremo nella produzione di pellet parola chiave pellet andiamo a vedere come siamo messi con la produzione materiale mancante cosa è finito io sera tu cacchi cosa mi finisce sempre adesso ne compro un po vediamo un po mille o 10.900 50.000 10.000 solo questi alla mille e mille ok 2000 comprati va bene adesso questo li può lavorare nella produzione di pellet qui ci vuole il latte va bene qui ci vuole il diesel mannaggia qui allora cipato ne abbiamo ancora un po ma tanto ne avevo portato solo un viaggio 708 di un guardia di paglia e abbiamo 33.000 40.000 vediamo poi i prezzi di sta roba qua il pellet dove me lo vediamo da pellet qua sotto wow che sono bassi i prezzi ancora però se ne parla a febbraio e vabbè siamo siamo a luglio vabbè nel frattempo aumenta 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 qui ci sarebbe da vendere qualcosa guardate i prezzi tutti in verde tutto in verde qui 200 allora mettiamo 200 300 400 500 700 mila euro che tireremo fuori da anche di più 700 mila le tiriamo fuori da qui questo cos'è assi o altri 300 mila sono quasi un altro milioncino però gli assi no quelli sono i tronchi no la legna può no ragazzi abbiamo un altro milione che va venduto ma questo però non in questa puntata perché siamo alla fine ragazzi è passato già il tempo io vola il tempo vola 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 andiamo a vedere un'altra occhiata qui ok tu lavori benissimo questo guardate un po dove se n'è andato no vabbè allora per questo non va bene ma questo sì accenditi il motore vabbè lasciamolo qui dopo me lo faccio do un'occhiata agli altri se come sono messi allora il fendit è fermo che il trattore con la colza no il fast track è fermo scania fermo il fertilizzante liquido sono io il classe in lavoro ma è il lavoro è al lavoro stanno lavorando tutti dai bene così allora ragazzi io vi do appuntamento al prossimo video sempre qui sulla notte di marchi un salutone ciao 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 Grazie a tutti.